Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Starlight Books, scusate, bentornati su Starlight Books. Appunto, come potete entrare dal mio fanchino di BB-8, anche oggi parliamo di Star Wars. È uscito qualche giorno fa, mi pare, un first look dedicato a Star Wars, l'ascesa di Skywalker, che sarà il film che uscirà dicembre e che concluderà questa nuova trilogia. Quindi, siccome, non so se è un trailer vero e proprio, perché non l'ho ancora visto, però avevo detto, quando feci la reaction al teaser, che avrei comunque fatto ancora dei contenuti se fosse uscito qualcosa rinerente a Star Wars, l'ascesa di Skywalker, che ve l'avrei portato. Quindi, eccomi qua, adesso non ho qui il PC, anzi, oggi non uso neanche il PC, mi userò il celular di mia madre perché non lo voglio di riportare il PC dalla schiavania fino a qua, quindi ho chiesto a mia madre il suo telefono impresso, quindi l'audio non so come sarà, sapete che comunque, purtroppo, non ho i mezzi per farmelo vedere, farvelo vedere. Sono molto curiosa, comunque vi lascerò poi il link del video che guarderò io e adesso mi accingo appunto a guardare questo first look con tanta curiosità. Il teaser mi aveva lasciato in hype per alcune cose, mi aveva perplessa per altre, quindi adesso vediamo se qui ci danno nuovi elementi per farci una nuova idea, quindi bando le ciance e cominciamo. Ok ragazzi, ci siamo, ho impostato qua il telefonino di mia mamma, ce l'ho qui, è dietro questo porta cellulare, ok, vediamo un po', non so l'audio come sarà perché mia mamma ha un telefono un po' inferiore rispetto al mio, ma spero che almeno si possa sentire, se no, come vi ho detto, nell'info box c'è il link del video che sto per guardare io, quindi pronti, via! Oh! Ci sono dei frame della vecchia trilogia, qui appunto la nuova speranza, Oh, che nostalgia! Guardate che abbasso un pochino, così. Questa è, l'impero colpisce ancora. No, si stanno susseguendo dei frame della vecchia trilogia, dobbiamo il ritorno dello Jedi. Adesso hanno cominciato con quelle della trilogia, quella, diciamo, la prequel. E adesso si cominciano con quelle della nuova. Che belle, però. Wow. I feels ci sono tanti, eh. A dicembre. Wow, bello! Oh, Carrie Fisher. La storia di una generazione. Por... wow! Uh, volge al termine. Perché ci trepioce gli occhi rossi? Eeeh... Il tuo viaggio... No, bellissima la battaglia tra lei e Kylo Ren! Uh! È quasi alla fine. Oddio. Ah! Ah! No! Oddio! Cosa ho appena visto? Star Wars e l'ascesa di Skywalker. Uh! Oh, mamma! Prossimamente al cinema. Sì, ma penso che uscirà... Ok, penso che uscirà comunque a... Aspettate, qua c'è uno di mia mamma, non è che collabora tanto. Eccoci. Eccoci qua. Allora. Allora, cosa dire di questo first look? Che mette molto hype. Ma francamente, cos'è che mi spaventa in tutto questo? Sono i chiari riferimenti a Palpatine. Perché io lo dissi anche nella reaction, nel teaser che trovate nelle scarmate finali e anche qua nelle schede. Se mi torna Palpatine vivo e vegeto, parto di vaffanculo d'oro. Ma davvero, eh! Perché sennò vorrebbe dire sminchiare non soltanto tutto quello che è successo nella prima trilogia, ma anche tutto il percorso di Anakin Skywalker e questo mi farebbe incazzare. Non poco, avrei un giramento di Melotas che prenderei il volo. Speriamo di sbagliarmi. Spero veramente che non lo facciano. Vi prego che magari ci sia sì qualche riferimento, magari appaia come visione onirica a Kylo Ren, qualcosa del genere, ma che non mi torni in vita. Veramente che si scopra che non è morto, perché sennò veramente basta, basta. Io mi alzo e vado via dal cinema, perché lo andrò a vedere sicuramente. Vi rilascio il sondaggio se vorrete un video riguardante appunto tutta la saga comunque di Star Wars in generale, o comunque solo su questi ultimi film. Se lo volete ve lo faccio. Comunque è un trailer che mette molto hype, si partono con dei frame appunto della prima trilogia, poi si cominciano con quelli della nuova trilogia che a parte l'ultimo capitolo è da dimenticare, e poi appunto si parte con quelli della nuova, fino a concludere appunto con alcuni frame di questo risveglio della forza. Il più comomenti sono quelli di Carrie Fisher, che da quello che ho sentito sono stati presi da delle scene tagliate del risveglio della forza, quindi per questo che l'hanno messa dentro, perché Carrie Fisher, lo sapete, è scomparsa, non penso che avevano ancora iniziato neanche le riprese, forse le avevano cominciate, ma quindi non hanno ritenuto opportuno metterla magari con il computer, come hanno fatto con tanti esempi, tipo quello che mi viene più in mente è Brandon Lee. E quindi c'è tanto hype, c'è tanto hype, sono veramente molto curiosa, mi ha lasciato veramente di stucco il fatto che C3PO ha gli occhi rossi, quindi oddio esorcista is coming, e poi l'ultimo frame di Paddy, direi, con una spada laser rossa, il mantello sul cappuccio, e questa spada che si apre e si divide in due, come quella di Darth Maul. Non è che tanto tanto questa è la figlia di Darth Maul, no, perché veramente non si capisce un tubo con sta ragazza. Io ho sempre pensato che fosse la figlia di Luke, perché Luke appunto so che nelle storie, nelle storie dopo, quella con i fumetti e tutto il resto, ha avuto anche un figlio che ha chiamato Ben, qui l'hanno messo invece come figlio di Han Solo. Quindi boh, non lo so, sono in curiosità parecchio, anche perché comunque Star Wars è un universo che andrà ancora avanti, perché ci sarà la serie tv dedicata a Obi-Wan Kenobi con Iwan McGregor, e su quella sono molto curiosa perché Iwan McGregor ha fatto un lavoro bestiale con Obi-Wan Kenobi, soprattutto nella vendetta di Sith. Lui ha sempre dichiarato appunto che voleva rendere omaggio alle Guinness, e l'ha fatto a mio parere. Poi ci sarà The Mandorleano, adesso non mi ricordo esattamente come si pronuncia, che sarà una serie mi pare dedicata a Buffett, e poi ci dovrebbe essere anche, non mi ricordo se è una serie di film o una trilogia o qualcosa, comunque che è in mano a Benifoss e Wise, che sono gli sceneggiatori di Game of Thrones, quindi facciamoci il segno della croce, che Dio ce ne scampi, che Dio ci aiuti sinceramente, perché io non capisco la Disney come dopo il flop dell'ottava stagione abbiano potuto lasciargli in mano una cosa come Star Wars. Poi per carità, se faranno un bel lavoro, sarò la prima a dire chapeau, però per adesso sinceramente, dopo aver visto lo scempio che hanno fatto con l'ottava stagione, ho un po' paura. Ne ho tanta, tanta paura, tantissima. Perché? Perché gliel'hanno lasciata in mano, ma vabbè, sono gusti. Forse la Disney l'ottava stagione di Game of Thrones non si è piaciuta, non lo so, ma ho paura. Comunque vabbè, questo first look mette molto hype, mette molta curiosità, e sto veramente pregando Cthulhu e tutte le divinità che non torni palpata in vivo, perché sennò veramente mi incazzo. Mi incazzo e allora veramente vado da J.J. Abrams e gli dino una testata. E poi mi arrestano, mi mettono in gallina per il resto della mia vita. Vabbè ragazzi, questa reaction si conclude qui, io spero che vi sia piaciuta. Come vi ho detto nelle schede trovate anche il sondaggio, se volete il video dedicato alla saga comunque, o a questa nuova trilogia, insomma, vedrete voi. Fatemi anche sapere nei commenti se preferite un video su tutta la saga oppure solo sui nuovi film. E vi troverete anche nell'info box, anche i miei social, Facebook, Twitter, Instagram, avete a trovarmi, seguitemi, mettetemi la che mi fate tanto tanto contenta. Troverete anche il link del trailer che ho visto io. Iscrivetevi al canale a blog se l'avete ancora fatto, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche. E se questo video vi è piaciuto, mettetemi un bel like e condividetelo. Io e BB8 vi mandiamo un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video, alla prossima reaction, alla prossima recensione. Ciao a tutti! Ti prego, ma che non torni palpata in vivo, ti supplico!